12 mesi di interdizione della professione forense. La Corte di Cassazione ha confermato nei confronti dell'Avvocato Marcello Manna che è anche sindaco di Rende la richiesta che era stata avanzata dal Tribunale del Riesame e che era stata sospesa in attesa del pronunciamento della Suprema Corte. L'Avvocato Manna è indagato dalla Procura di Salerno. Secondo l'accusa, il 30 maggio del 2019 avrebbe consegnato al giudice Petrini una busta di lettere con all'interno 5.000 euro con l'intenzione di aggiustare una sentenza in Corte d'Assise d'Appello per un suo assistito. L'imputato Francesco Patitucci, difeso per l'appunto dall'Avvocato Manna, già condannato in primo grado con rito abbreviato a 30 anni di reclusione per concorso nell'omicidio di Luca Bruni avvenuta a Castro Libero il 3 gennaio 2012. Infatti il Patitucci venne poi assolto il 4 dicembre 2019, una sentenza secondo l'accusa contaminati a radice dagli eventi corruttivi. L'Avvocato Manna inoltre, sempre su richiesta dello stesso giudice Petrini, si sarebbe prodigato poi in favore di un giovane regista di La Mezzia Terme, cugino della moglie di Petrini, presto Giuseppe Citrigno, presidente della Calabria Film Commission, per un contributo stabilito dal bando nel gennaio 2019 per l'attrazione e il sostegno di produzioni audiovisive e cinematografiche nazionali e internazionali nel territorio della regione Calabria. Il regista poi ha ottenuto un contributo di 175.000 euro a seguito di stipula della convenzione avvenuta nell'ottobre del 2019. L'Avvocato Marcello Manna a seguito dell'interdizione si è autosospeso dal Consiglio del suo ordine professionale.